Portare Avola in festa era una cosa che sognavo da sempre, purtroppo questo sport non ero olimpico, ho vinto tantissime medaglie e ogni volta li festeggiavo solo con gli amici, quelli di sempre, però l'invito è a quei miei amici di sempre di prendere questa bandiera, organizzare come se avesse vinto l'Italia agli europei e voglio festeggiare con voi, andare in giro per tutto il paese e poi fare l'ultima tappa in piazza col sindaco sono orgoglioso di Avola, degli Avolesi, è un popolo speciale e sono contento di averli fatto gioire, che bella sta medaglia stasera vincendo qui a Tokyo sicuramente è una cosa che dà un'importanza ancora in più a questa medaglia che già per noi è storica importantissima guarda, un po' mi sento predestinato perché ho dato tutto per il karate, tutto 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 ho avuto momenti difficilissimi e quest'anno è stato un anno pazzesco e ho dato tutto ho trascurato famiglie, amici, ho trascurato un po' di persone però questa qua oggi è molto molto bella l'aspettavo da una vita, si è fatta attendere, se l'è tirata però c'aveva ragione perché è bellissima guardandovi un po' non è che sono così lineamenti fini diciamo no allora questo è nato perché una mia esultanza che mi sono battuto i pugni sul petto, mi ricordo che gara era e poi un po' perché sono così un po' burbero, un po' scuretto, con la barba e allora i miei amici in nazionale, di Avola, di Storia del Gorilla poi io mi sono andato a leggere la storia dei Gorilla ed è un animale speciale, un animale favoloso e quindi mi è piaciuto questo accostamento finalmente a me non rompono più le scatole, questi ori che mancano io dicevo al presidente Malagò, guarda che il karate è alla fine quindi non ti preoccupare, ancora non è finita domani abbiamo un'altra giornata scherzi a parte sono felicissimo per il presidente per la spedizione azzurra perché abbiamo dimostrato, dimostriamo sempre il popolo italiano dimostra che nelle difficoltà avute l'anno precedente quest'anno lo stiamo sventolando in tutto e per tutto questo tricolore quindi sono molto felice per questo grazie a tutti